Le eccellenze della cucina regionale, fiore all'occhiello del nostro territorio, in un format consolidato che troverà spazio al castello dell'imperatore. La seconda edizione di Toscana in Bocca prenderà vita il prossimo 7-8 giugno, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze della nostra cucina e accrescere l'appeal del territorio. L'ingresso sarà gratuito, mentre per assaggiare i piatti occorrerà un gettone del valore da 3 a 10 euro. A partecipare saranno 15 tra i migliori ristoratori, provenienti dalle province di Prato e Pistoia, che allestiranno uno spazio degustazione caratterizzato da una speciale attenzione alle materie prime locali. Musica, vino, ma anche talk sulle nuove sfide della ristorazione, condotto dallo chef toscano Cristiano Tomei. A presentare l'iniziativa sono stati il direttore di Confcommercio e il presidente. L'imperatore troveranno 10 ristoratori che porteranno con sé un piatto tipico della tradizione o comunque legato alla tradizione toscana. Troveranno pasticceri, gelataie, il vino del Carmignano, quindi troveranno tutto quello che rappresenta l'enogastronomia pratese e anche toscana in uno spazio di eccellenza come quello del Castello dell'Imperatore. Quindi due grandi serate che per quanto ci riguarda rientrano nell'idea dell'enogastronomia come grande cardine per lo sviluppo turistico del territorio. Per noi questo è il pallino, Prato ha la condizione di potersi manifestare in un mercato turistico in grande crescita. Queste sono grandi occasioni per alimentare un'ambizione che assolutamente c'è.